Allora, brevissime notazioni da parte mia. Intanto benvenute e benvenuti a questo nuovo evento del Mese della Diversità e dell'Inclusione, Unicità per Fare la Differenza. Oggi intanto vi do alcune brevi regole per chi volesse usufruire del servizio di interpretariato. Dovete cliccare sul pulsante Interpretation, selezionare l'italiano per ascoltare la traduzione in italiano, selezionare inglese per ascoltare la traduzione in inglese. Se volete sentire soltanto l'interprete, dovete cliccare sul Newt Original Audio. Per interagire, ormai penso che lo sappiamo tutti, ma ripetita Juvent, cliccare sul pulsante Chat per messaggi che saremo lieti di accogliere in qualsiasi momento del webinar e per porre una domanda, con Stefano non ne abbiamo discusso e quindi questo può avvenire in qualsiasi momento del suo intervento, cliccate pure su alzate la mano e così potrete intervenire. Una brevissima panoramica sul mese per chi ancora non fosse stato abbastanza ossessionato da me su questa serie di eventi che stanno attraversando tutto il mese di maggio, perché noi abbiamo aderito come ISMET, come UPMC in Italia al Mese della Diversità e dell'Inclusione dell'Unione Europea, con la nostra iniziativa Unicità per fare la differenza, che come la maggior parte di voi sapranno, è divisa in varie sezioni. Una è qui Arli Eversity, in cui raccontiamo quello che facciamo noi come organizzazione, poi ci sono degli eventi della sezione formazione più divulgativi e formativi. Abbiamo concluso la settimana scorsa con un bellissimo intervento di Fabio che saluto perché questo oggi invece farà da interprete che ci ha presentato alcune sue attività come cittadino, oltre che come collega. Invece oggi introduciamo il primo webinar di una importantissima sezione che è networking, ossia facciamo rete con varie organizzazioni che si occupano di inclusione, si occupano di differenza e o agiscono nel territorio per fare cose che ci piacciono insieme a noi, possibilmente. Quindi avremo oggi Stefano Di Valore D, domani vi ricordo l'appuntamento sempre alle 12 con Luigi Carollo del Palermo Pride che sarà con noi, e poi di seguito tutti gli altri appuntamenti di cui vi daremo comunque ovviamente notizia. Per quanto riguarda il webinar di oggi abbiamo Stefano Faniglu che ora si presenterà da sé, ci parlerà di valore di e del valore della diversità, di cosa fanno gli associati, quali sono i settori di attività, che cosa vuole dire sostenibilità insieme, coniugata insieme ai diversity and inclusion e le aree di intervento della sua organizzazione. domani appunto vi ricordo il prossimo webinar che vedrà come ospite Luigi Carollo, coordinatore del Palermo Pride, quindi una importante realtà cittadina che fa della ottica transazionale pratica politica. dopodiché vi ricordo prima di chiudere di sfoderare dei fantastici sorrisi e di compilare il questione di gradimento via chat prima di concludere il webinar, per cui comunque vi ringrazio sin da ora. Adesso io interrompo la mia condivisione e lascio la parola a Stefano. Grazie Maria, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti di nuovo, mi fa molto piacere conoscervi e ritrovare alcune di voi. Innanzitutto vi ringrazio per aver invitato Valoredina e la mia persona a raccontarvi un po' come approcciamo al tema della diversità e dell'inclusione da un punto di vista delle organizzazioni, quindi mi fa veramente molto piacere essere qui stamattina e Maria lo anticipava bene, in qualunque momento potete assolutamente interrompermi, insomma alzare la mano, entrare direttamente con l'audio e molto volentieri, insomma mi fa piacere se riusciamo a generare anche una conversazione, ecco che sia un momento partecipato sarebbe il desiderato più grande. Allora, se siete d'accordo io inizierei subito condividendo la presentazione che ci può aiutare un po' a tracciare una sorta di storytelling, no? Di quello che vorrei raccontarvi stamattina e che vorrei condividere con voi, ammesso che riesca ad ingrandirla, eccola qua, ci siamo. Vedete tutte e tutti? Ok, bene, grazie. Allora, noi siamo Valoredio, in particolare sono il responsabile marketing dell'associazione, ho avuto diciamo l'onore e il privilegio di vedere crescere questa organizzazione sin da quando è stata fondata tredici anni fa, siamo un team di persone di circa venti colleghi, più una serie di collaboratori che collaborano diciamo su progetti specifici e diciamo che come associazione abbiamo proprio quella di mission di lavorare sul tema delle organizzazioni dal punto di vista della diversità e dell'inclusione. Prima però di cominciare a entrare un po' nel vivo, no? Delle cose che vorrei condividere con voi, partirei facendovi vedere così un breve video che forse meglio di tante parole riesce a raccontare qual è il contesto dell'associazione. Un attimo di presenza che ve lo metto a schermo intero. Spero che riusciate a vederlo e a sentire decentemente anche l'audio. Noi siamo Valoredio. Bisogna condividere tutto lo schermo anziché solo la presentazione. Non lo vedo. Scusate? Devi condividere tutto lo schermo Stefano, se no non lo vediamo. Ok, ok, scusatemi. Ci mettiamo un secondo. Desktop. Ok. Penso che adesso riusciate a vedere. Noi siamo Valoredio. D sta per tante cose che abbiamo a cuore. Di come donna. Perché ogni donna abbia l'opportunità di realizzare i suoi sogni, senza essere condizionata da pregiudizi di genere. Di come diversità. Perché diversità voglia dire identità e rappresenti un valore. Noi crediamo che le differenze rendano la società un posto migliore in cui vivere. Di come determinazione. Perché il cambiamento culturale richiede impegno e perseveranza. E noi non vogliamo. Anzi. Di come domani. Perché l'inclusione è sostenibilità. E vogliamo che sia al centro della visione del futuro. Nostro e delle generazioni che verranno. Di come direzione. La DIA è una bussola che segna la rotta di una strada ancora lunga. Che vogliamo fare insieme a voi? Ecco qua. Penso che insomma come sempre al di là di tante parole forse un video riescano a trasmettere anche dal punto di vista delle emozioni con più semplicità quello di cui ci occupiamo. Ecco questa è la nostra missione siamo appunto un network di circa 300 aziende associate 310 la cui appunto finalità è quella proprio di lavorare no sul tema della promozione dell'equilibrio di genere ma più in generale sull'aspetto della cultura inclusiva. Con un obiettivo specifico innanzitutto quello della crescita delle aziende ma attraverso le organizzazioni che sono se vogliamo più veloci no nell'accettare il cambiamento e nell'accoglierlo e nel portarlo avanti di riuscire ad arrivare anche diciamo a cambiare in qualche modo il paese. Volevo innanzitutto farvi un po' una panoramica no a proposito di networking settimana nella quale insiste no questo questo intervento. Per parlarvi che dal nostro punto di vista proprio quello del networking è probabilmente la leva più importante che cerchiamo di agire nelle organizzazioni perché questo diciamo ha a che fare con la volontà di non dover tutte le volte reinventare la ruota no quando si tratta di diversity inclusion ma di cercare di rimettere in circolo e ha fatto al comune quello che le organizzazioni fanno di buono ma perché no anche gli errori no che vengono commessi nel percorso di valorizzazione delle diversità e dell'inclusione. Come vedete da questa slide insomma vi dicevo 300 aziende associate lo guardate anche dai numeri c'è un'attenzione molto particolare crescente negli anni e soprattutto negli ultimi due anni come responsabile marketing diciamo che sto osservando veramente un grandissimo interesse da parte delle organizzazioni sulle tematiche ma credo che insomma sia anche mediaticamente no più facile sentir parlare di diversità e di inclusione per fortuna e in termini diciamo di dimensioni e di settori di attività siamo abbastanza trasversali pensando alle dimensioni organizzative diciamo che ancora siamo polarizzati più su una dimensione medio e grande no di organizzazioni questo non perché ovviamente non non ci piacciono le organizzazioni più piccole anzi diciamo che è uno dei degli obiettivi del prossimo triennio quello di arrivare anche di più alle piccole e medie imprese ma perché probabilmente no come al solito sono tematiche che hanno bisogno di essere trainate dalle grandi organizzazioni per poi essere anche declinate in contesti organizzativi più più piccoli. Diceva giustamente Maria nell'introduzione perché si parla di sostenibilità anche quando si parla di diversity inclusion se ne parla perché sostanzialmente in qualche modo tutto ciò che insiste sulla valorizzazione e l'inclusione delle diversità va a lavorare sulla S degli ESG no? Quindi su quelle dinamiche sociali che in qualche modo poi rendi contano se vogliamo l'interesse e l'attenzione delle organizzazioni rispetto alle tematiche della sostenibilità. Ed è evidente che negli ultimi anni eh questa tematica sia diventata sempre più centrale tanto per le aziende quanto eh diciamo anche proprio da un punto di vista di sistema paese. Ora qui veramente per eh condividere alcuni eh spunti introduttivi ho voluto eh come dire menzionare la lettera annuale appunto dell'amministratore di delegato di BlackRock Larry Fink agli amministratori delegati nella quale nella quale sostanzialmente diceva che laddove le organizzazioni non si dotassero no? Di eh una diversità a livello di board loro non saranno più diciamo così eh felici no? di investire in delle organizzazioni poco inclusive da quel punto di vista e ehm tra l'altro anche nella nell'ultima eh lettera scritta qualche mese fa diciamo ha rimarcato nonostante voglio dire le pressioni del mercato siano eh molteplici in questo momento l'importanza anche per lo stesso contesto BlackRock di lavorare diciamo dal punto di vista della diversità e dell'inclusione. e chiaramente questo introduce anche eh un aspetto una pressione dal punto di vista del business no? Nella nel dare la dovuta attenzione alle tematiche di eh diversità e inclusione. E poi ovviamente ci sono i eh diciassette goal dell'agenda venti trenta del diciamo degli obiettivi di eh sostenibilità che in qualche modo stanno aiutando a eh portare il tema in agenda a tutti i livelli. vi dicevo non è soltanto importante dal punto di vista delle organizzazioni e del paese ma eh noi crediamo che lavorare sulla diversità e l'inclusione sia ormai necessario eh diciamo guardando a tutti gli stakeholder delle organizzazioni ma eh in generale gli stakeholder della società diciamo no? per cui lo vediamo in questa slide è un tema che ha a che fare innanzitutto con i consumatori perché eh le nuove generazioni ma devo dire anche le generazioni diciamo più senior cominciano ad avere una certa sensibilità e una certa consapevolezza rispetto alle tematiche degli ESG e cominciano diciamo anche a premiare quelle organizzazioni, quelle strutture che rispetto a queste tematiche si impegnano e cercano di in qualche modo aggiungere al valore economico il valore appunto della sostenibilità che possono portare eh sul mercato. è importante come vedevamo pochi minuti fa anche dal punto di vista degli investitori non aggiungerei altro cioè c'è una grande attenzione a investire su realtà che siano sostenibili e investano su tutte e tre diciamo le dimensioni della sostenibilità e lo sta diventando sempre più anche per i collaboratori delle organizzazioni dei dipendenti e dei per i dipendenti perché perché ovviamente eh soprattutto diciamo questo lo stiamo vedendo in maniera molto molto esplicita negli ultimi mesi c'è una grande attenzione da parte dei collaboratori a eh identificarsi a scegliere dei contesti organizzativi nei quali si rispecchino no in qualche modo e che quindi lavorino anche rispetto alla restituzione di qualcosa in più rispetto al 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 mero valore diciamo economico perché è importante dal punto di vista diciamo delle organizzazioni e delle aziende lavorare eh sulla diversity inclusion perché è un tema di business noi non ci stanchiamo mai no di raccontare alle organizzazioni questo aspetto perché per carità la la il valore etico il valore sociale diamolo per un secondo per assodato che sia giusto e che sia etico fare diversi diversi inclusion però le organizzazioni oltre a questo hanno un interesse proprio a lavorare su queste tematiche per una ragione molto semplice il fatto che eh ci sia una connessione molto diretta tra le performance organizzative e i livelli di inclusione che eh come dire praticano al proprio interno no questo è il primo eh elemento eh diciamo motivazionale per le organizzazioni e chiaramente poi andandola a snocciolare eh in maniera un po' più precisa eh questo ha un impatto come vedevamo anche sulla capacità di attraverso di attraverso i migliori talenti e di trattenerli ma va a lavorare anche su alcune leve quali quelle della capacità di innovare dei contesti organizzativi e va da sé che insomma oggi parlare di diversità e di inclusione è qualcosa che eh in qualche modo aiuta anche dal punto di vista della eh reputazione dell'azienda eh e in qualche modo diciamo riesce ad attirare anche l'interesse da parte dei consumatori in termini di domanda. Quello che vi sto ehm brevemente introducendo in questa slide lo possiamo vedere in maniera eh se vogliamo un po' più più plastica in quella successiva che in pratica ci fa vedere molto banalmente come all'interno di un indice eh sia stato studiato siano state studiate le performance azionarie di alcune eh organizzazioni in funzione del fatto che fossero più o meno inclusive in questo caso lo studio si riferisce soltanto al tema di genere però potremmo sicuramente come dire eh dedurre che anche le altre leve della diversità andranno nella andrebbero nella stessa direzione. e cosa ci fa vedere questo grafico? Ci fa vedere che sostanzialmente laddove ci sono delle percentuali più alte di inclusione di donne eh ai vertici si è più performanti sostanzialmente no? E questo lo vediamo anche mh diciamo dal punto di vista di quelli che sono i ricavi da innovazione nei mh da un punto dove possiamo diciamo affermare che le aziende più inclusive sono le aziende che riescono a innovare di più e quindi in qualche modo a generare anche più ricavi da eh questo punto di vista. ovviamente gestire la diversità è complesso perché va da sé che no? Quando tutti abbiamo uno stesso punto di vista siamo più allineati rispetto a un pensiero è più facile no? Anche banalmente prendere delle decisioni eh o allinearci diciamo su una eh su una scelta per cui la diversità eh costa ma eh crea valore. qui lo vediamo no? Nelle quattro fasi eh classiche di performance di un team rispetto a un progetto come mh in qualche modo incrociando una curva di team omogenei con quella di team eterogenei si vede benissimo come nelle prime due fasi di formazione e di ragionamento no? Di brainstorming eh di team omogenei si sia più facile arrivare a una convergenza. quindi si ha quasi la percezione che persone che la pensino allo stesso modo vadano più veloci. Il punto qual è? Che nelle fasi poi diciamo di eh chiusura, di erogazione no? Di un di un progetto viene fuori tutto il valore delle differenze. perché se è vero che eh si fa più fatica è vero anche che diciamo dal confronto a volte anche eh duro no? Si possano invece generare dei valori eh maggiori rispetto al fatto che eh come dire mh se si è tutti diciamo allineati su uno stesso modo eh di pensiero si riesca sicuramente a fare bene ma eh meno di eh quando si è più diversi. e da qui nasce diciamo valore di mh nasce con un focus molto specifico sul mh genere questo tredici anni fa perché? Perché ehm lo è ancora però soprattutto un po' di anni fa diciamo che era eh la 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 differenza più evidente anche banalmente sulla quale eh andare a lavorare. Detto che mh oggi anche noi abbiamo un pochino allargato lo spettro di attività come vedremo. Perché siamo partiti proprio dal tema di genere? Perché lo dicono un po' i dati no? Non si riesce sostanzialmente a capire perché? Se le donne si laureano prima si laureano eh diciamo con anche dei voti più alti poi si arrivi diciamo ai tassi di occupazione che vediamo nella slide che sostanzialmente ci dicono che siamo sottoperformanti anche rispetto a paesi target no? Molto simili al 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 nostro quindi sostanzialmente siamo abbastanza indietro da questo punto di vista. E quindi abbiamo iniziato a porci delle domande con le organizzazioni che hanno fondato l'associazione per capire da dove nascesse sostanzialmente questo divario. Divario che eh in qualche modo no? Lo vediamo poi dal come dire dal punto di vista proprio delle delle penalizzazioni che in qualche modo le donne vivono sul mercato del lavoro perché sostanzialmente eh è un percorso un po' ad ostacoli no? Quello che affrontano le donne sostanzialmente non ci spieghiamo perché eh ci sia un tema di pay gap a parità di ruolo che mediamente ad esempio è del diciassette per cento. Il che vuol dire che qui eh questo dato medio considera anche eh come dire tutto il mondo del del pubblico dove ovviamente è è molto più basso il pay gap no? Ma mediamente a livello nazionale uomo e donna che fanno esattamente le stesse mansioni vedono una differenza retributiva del diciassette per cento. e poi ancora oggi vediamo come eh diciamo ci sia un tasso di eh abbandono no? Del del mondo occupazionale da parte delle donne alla nascita del primo figlio e non voglio raccontarvi come peggiori questo dato alla nascita del secondo figlio e poi sostanzialmente in qualche modo il il punto d'atterraggio di questo percorso ad ostacoli che purtroppo le donne affrontano professionalmente lo si vede nel raggiungimento di posizioni apicali no? Perché se tendenzialmente lo vedremo tra poco c'è una parità a livello diciamo entry level nei contesti organizzativi poi pian piano questa linea no? Si assottiglia per quanto riguarda eh il tema di genere e arriviamo ad avere sostanzialmente il quattro per cento di amministratrici delegate donne no? insomma quindi c'è diciamo che di strada da fare ce n'è ce n'è veramente tanta. Ecco era questa la slide che volevo mh condividere con voi perché qui praticamente vediamo come no? Da un punto di vista di ehm appunto ingresso nel mondo del lavoro tendenzialmente ci sia una sostanziale parità non è esattamente la parità però si tende a una parità invece poi lo vediamo questo si riferisce evidentemente al mercato americano lo vediamo come poi eh andando avanti nel diciamo nella carriera organizzativa le donne sostanzialmente non arrivino a ricoprire posizioni manageriali per non parlare di quelle diciamo mh di 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 amministratore delegato o di riportano di C-suite cosiddetta. Quali sono le motivazioni che stanno un po' alla base se vogliamo di questa perdita di talento? innanzitutto c'è un tema anche proprio di eh tipologie di attività che tradizionalmente eh diciamo hanno abbracciato più le donne fino ad oggi per cui eh se sicuramente sentite parlare eh di importanza di eh discipline STEM e di orientamento verso le discipline STEM al femminile è legato eh un po' a a quello che vediamo in questa slide no? Perché tendenzialmente oggi le donne sono occupate principalmente in funzioni diciamo mh che che difficilmente poi hanno un percorso di carriera lineare che possa portare no a a a ricoprire ruoli eh apicali perché perché principalmente lavorano nel share service eh e sostanzialmente si arriva meno a eh come dire occupare posizioni che hanno a che fare più col business no? e quindi si vuole lavorare in questo senso anche eh per cogliere le opportunità eh che il mercato occupazionale darà nei prossimi anni rispetto a tutto il mondo delle discipline scientifiche, tecnologiche, eh economiche e matematiche dove sappiamo che si sta concentrando e si concentrerà sempre di più la domanda di eh lavoro e la domanda occupazionale. e questo insomma è un po' eh se vogliamo la premessa no? Rispetto a eh perché siamo nati e eh da dove eh diciamo l'interesse di queste dodici aziende che hanno fondato l'associazione eh è partito. Arrivando ad oggi eh questa slide è un po' una un radar dico io no? Di 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 quello di cui l'associazione si occupa per cui sostanzialmente voi vedete che al centro c'è il centro studi no? Al centro di questa slide perché? perché ovviamente mh essendo diciamo diretta emanazione di organizzazioni per noi tutto ciò che non si può misurare difficilmente poi lo si può anche raccontare. Quindi partiamo sempre dal centro studi come mh diciamo hub aggregatore e traduttore poi di indicatori, KPI e eh dati rispetto a quello di cui ci occupiamo. mh lavoriamo moltissimo in una logica di network e questo mh diciamo era già era già emerso prima e lo vedremo anche declinato in alcune attività molto pratiche no? ehm facciamo tantissimo public affair quindi cerchiamo di portare le istanze della diversità e dell'inclusione anche alle istituzioni no? Questo perché mh sostanzialmente le organizzazioni sono un po' più avanti rispetto al contesto istituzionale su queste tematiche anche se insomma stiamo vedendo che c'è eh insomma un interesse particolare in questi anni anche legato proprio a quanto eh le organizzazioni si misurano e si certificano sul tema no? Dell'inclusione di genere ma non solo di genere per esempio insomma sicuramente mh qualcuno di voi starà seguendo anche ehm diciamo tutta l'attenzione rispetto al PNRR eh alle organizzazioni che in qualche modo si vanno a misurare e certificare sul tema di genere proprio per accedere a delle fiscalità premiali no? rispetto al sistema paese diciamo rispetto alla a quello che è il contesto attuale. Che cosa facciamo? Facciamo tantissima formazione per cui le eh aziende associate con i loro uomini e le loro donne partecipano a tutta una serie di attività che hanno sempre questa particolarità diciamo di essere eh molto molto spinte dal punto di vista del networking. lavoriamo appunto su delle campagne di sensibilizzazione vedremo tra poco anche uno spot e soprattutto come mh introducevo prima cerchiamo di rimettere in circolo le conoscenze e le competenze delle organizzazioni per cui una delle attività più importanti che facciamo anche col centro studi è proprio quello di raccogliere le best practice delle aziende quindi banalmente sapere che eh Nestlé per esempio ha una case history meravigliosa sul tema della genitorialità condivise di come lavorare no? per andare nella direzione di qualche modo di parlare di genitorialità condivisa e non solo di maternità e allora noi tutte queste best practice cerchiamo di raccoglierle e rimetterle in circolo sempre per accelerare i processi di eh cambiamento nelle organizzazioni. Io volevo farvi vedere anche mh degli esempi un po' più concreti, un po' più pratici no? Di 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 quello che vi sto raccontando ma prima di arrivarci mh volevo dirvi anche un po' il target no? Di riferimento dell'associazione a chi a chi si rivolgono queste iniziative. si rivolgono sicuramente mh come dicevamo a a alle organizzazioni no? Perché si cerca di lavorare sul tema mh dell'inclusione di tutte le diversità genere, generazioni, culture, disabilità. Non lavoriamo noi nello specifico sul tema LGBTQ plus semplicemente perché c'è un'altra associazione in Italia che lo fa molto bene si chiama Parks Liberi Uguali eh con il cui direttore generale diciamo siamo in in ottimissimi rapporti e quando vogliamo eh in qualche modo lavorare anche su quelle intersezioni di solito lo facciamo in partnership. no? È un'area molto ben presidiata da questa associazione quindi insomma ci fa piacere collaborare con loro e poi dicevo dicevo dal punto di vista delle organizzazioni si cerca di lavorare appunto per aiutare a dotarsi di strumenti anche di misurazione sostanzialmente per accelerare i processi di cambiamento. Vi dicevo che abbiamo una forte vocazione anche rispetto alle nuove generazioni quindi per aiutare anche a scegliere dei percorsi poi eh diciamo di studio un domani professionale che possano avere una maggiore rispondenza rispetto al mercato del lavoro e che possano in qualche modo aiutare no? A a a vedere quella dispersione di talento quel tubo che perde lo definiamo noi alcune volte no? Rispetto al al come dire al valore eh soprattutto da un punto di vista delle diversità e della diversità di genere crediamo che eh sostanzialmente si debba lavorare dal punto di vista dell'orientamento agli studi per assottigliare quel gap diciamo di genere no? Eh dal punto di vista occupazionale. Le istituzioni vi dicevo sono un altro mh interlocutori privilegiato dell'associazione soprattutto negli ultimi anni diciamo c'è stata una grande attenzione mh vi racconto su questo eh solo un un tavolo di lavoro che si è chiuso qualche mese fa legato al al G20 no? Di cui l'Italia aveva il semestre di presidenza fino eh a ottobre dello scorso anno eh la ministra Bonetti diciamo a a all'epoca eh incaricato la presidente dell'associazione che la dottore professora Paola Mascaro di guidare un gruppo di lavoro eh che sostanzialmente portasse al tavolo politico delle raccomandazioni su cosa potessero fare gli stati del G20 per migliorare il tasso di occupazione femminile nel settore privato a livello apicale no? Quindi era molto molto orientato al vertice dell'organizzazione e noi come lo abbiamo declinato? L'abbiamo declinato a proposito di networking facendo eh una chiamata diciamo ehm rispetto a tutte le aziende associate chiedendo agli amministratori delegati interessati di di diventare advocates di questo progetto e quindi di fare sensibilizzazione sia dal punto di vista interno ma anche di eh comunicazione esterna no? Quindi cercare di passare appunto dei messaggi e la cosa molto interessante è stata che a valle poi del lavoro e degli incontri che gli amministratori delegati hanno fatto rispetto a diciamo alla produzione di queste raccomandazioni appunto eh l'output è stato poi diciamo incluso in quello che è il documento finale del G20 politico italiano per cui se eh come dire se se avesse piacere avesse la possibilità di di guardarlo troverete nel documento finale del G20 del dello scorso semestre anche questo diciamo eh output prodotto dal gruppo degli amministratori delegati e in ultima analisi appunto l'ambizione è quella di lavorare per creare un paese più inclusivo e un pochino più moderno diciamo no? Questo è il punto di di atterraggio. Quali sono i nostri temi? Le nostre tematiche sono tendenzialmente ovviamente legate alla diversità e all'inclusione a tre sessanta con un focus anche spesso molto specifico sull'aspetto di genere che resta una delle diversità principali su cui bisogna lavorare no? Eh nel nel nostro contesto nel sistema paese per cui occupazione e leadership femminili modelli organizzativi flessibili e diciamo che su questa tematica soprattutto negli ultimi anni come dire ci sono dei cambiamenti molto molto importanti in atto no? Chiaramente insomma la eh la 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 pandemia in qualche modo ci lascerà l'eredità di dover trovare anche delle modalità organizzative diverse per sostanzialmente non tornare indietro ma chiaramente trovare un modo che sia sostenibile e che sia diciamo eh anche in qualche modo eh premiante rispetto agli aspetti più relazionali no? Quello che voglio dire è che non possiamo pensare di stare solo davanti al computer a lavorare però probabilmente non possiamo neanche pensare di riportare le lancette indietro di eh di due anni ormai a questa parte per cui vi posso garantire che diciamo dal nostro osservatorio vediamo una grandissima attenzione in questo momento soprattutto eh diciamo nella funzione risorse umane nel trovare i giusti equilibri da questo punto di vista. e poi lavoriamo diciamo a tutto tondo sulla cultura dell'inclusione del benessere organizzativo vi citavo l'importanza per noi come tematica della genitorialità condivisa questo perché lo vedevamo nella slide precedente no? Perché se parliamo di diversità di genere ancora per quanto si siano fatti dei passi avanti comunque nel duemilaventidue l'aspetto della maternità resta il principale diciamo ostacolo allo sviluppo di una carriera lineare al femminile per questo noi cerchiamo molto di insistere nelle organizzazioni per promuovere delle politiche per carità di come dire di come dire reintegro dalla maternità ma soprattutto di valorizzazione della genitorialità condivisa dove sostanzialmente appunto eh come dire ci si ci si prenda reciprocamente eh cura e ci si prendano reciprocamente le responsabilità mh infatti non è un caso no? Che eh anche dal punto di vista della dell'associazione ci sia un uomo a parlare del del tema della diversità e dell'inclusione per l'associazione perché è un modo per passare anche un messaggio no? rispetto ai nostri interlocutori l'importanza dell'alleanza cioè queste non sono tematiche che hanno a che fare solo con un genere o con una eh specifica con uno specifico cluster ma sono tematiche delle quali veramente dobbiamo occuparci tutti perché i benefici sono a vantaggio di tutti sostanzialmente no? E quindi quello della genitorialità condivisa è uno diciamo degli aspetti più importanti su cui siamo eh focalizzati. vi dicevo eh da tre anni a questa parte abbiamo un po' allargato lo spettro delle attività per cui non solo genere ma anche culture generazioni e disabilità ovviamente sono tematiche molto complesse per cui anche lì eh stiamo anche noi pian piano approfondendo e sempre più diciamo bilanciando quello che è l'aspetto il focus sul genere con le altre diversità anche man mano che eh banalmente anche la nostra cura di apprendimento no? Eh cresce ci permette di essere diciamo altrettanto autorevoli come lo usiamo sul tema eh di genere. vi avevo fatto già un passaggio sul tema della della parità salariale e per esempio su questo eh abbiamo citato l'aspetto del pay gap no? Che è probabilmente un grimaldello no? Purtroppo rispetto all'aspetto di genere l'importanza delle donne e delle STEM ehm e poi moltissimo anche diciamo siamo molto legati a tutto il tema dei pregiudizi e degli stereotipi inconsapevoli cosiddetti unconscious bias che sono come dire un modo anche per ehm come dire non si sia eh brutti e cattivi nell'avere dei pregiudizi purtroppo è un meccanismo di funzionamento purtroppo è un meccanismo neanche troppo purtroppo è un meccanismo di sopravvivenza che il cervello mette un atto quindi mette in atto quindi si parte dalle neuroscienze quindi per elaborare sostanzialmente l'enorme quantità di dati a cui siamo continuamente esposti a volte il nostro cervello prende delle scorciatoie che ci fanno magari prendere delle decisioni che non sono necessariamente le più efficaci o le più efficienti su questo vi faccio un brevissimo esempio magari in sede di colloquio io potrei no? Eh come dire empatizzare di più con eh l'altra parte perché magari ho studiato nella stessa università e questo potrebbe creare un similarity bias per cui magari eh come dire potrei essere visto di buon grado al di là dell'aspetto eh diciamo contenutissimo ma per un bias di similarità no? Perché quel quel manager dell'HR magari potrebbe potrebbe appunto usare quella scorciatoia ed empatizzare con me rispetto a quella tematica lì ripeto niente di sbagliato è assolutamente normale però ci si può lavorare da un punto di vista della consapevolezza no? E poi ovviamente anche il tema delle molestie di genere nei luoghi di lavoro diciamo è un'altra delle eh attività su cui siamo assolutamente molto impegnati e vi dicevo eh sostanzialmente che c'è una grandissima attenzione in questi anni all'aspetto della certificazione noi ovviamente non siamo dei certificatori eh non è il nostro mestiere no? Noi cerchiamo di lavorare eh con tutte le organizzazioni sulla diversity dell'inclusion e all'interno delle trecento aziende che sono nel network di Valore D dovete immaginare esserci un livello di maturità su queste tematiche molto diverso no? Non è che le trecento aziende che sono nel network sono i champion della diversity inclusion hanno diciamo eh come dire abbracciato questa mh questa sfida di di lavorare e di migliorarsi però chiaramente ognuno dal suo punto di partenza e ognuno poi con la propria velocità e da qui la nostra diciamo eh disponibilità a supportare anche poi in dei percorsi di certificazione mh attraverso alcuni strumenti che insomma vedremo tra tra qualche minuto. Non so se qualcuno ehm non riesco a vedere Maria se ci sono delle mani alzate o se qualcuno voleva fare degli interventi. Attualmente no Stefano vai avanti. Ok benissimo. Scusate ho approfittato per bere un goccino d'acqua. Volevo farvi adesso vedere qualche progetto molto pratico e condividerlo con voi. mh ne ho selezionati alcuni dove io credo che emerga mh come dire in maniera molto chiara la leva del networking che è anche diciamo eh se vogliamo il il filone all'interno del quale si colloca questo intervento no? Nella vostra rassegna nella rassegna mensile di Ismet. Per cui questo ad esempio il lavoro di cura e genitorialità è un lavoro che è nato insieme ad un gruppo di aziende associate attraverso il quale sostanzialmente abbiamo voluto raccogliere le best practice e rimettere le in circolo no? Ancora una volta per cui adesso attualmente ci sono delle altre organizzazioni che da questo documento stanno traendo delle ispirazioni per portare al proprio interno dei processi di cambiamento. E ripeto mh il il vero valore poi no? Di lavorare di sulla DNI all'interno di un contesto associativo è veramente quello della condivisione. vi raccontavo che facciamo tantissima formazione e sviluppo la cosa che mh mi fa piacere ancora condividere con voi è eh l'interaziendalità no? Che che cerchiamo di agire per cui di che tipo di attività si tratta? Si tratta di percorsi di formazione piuttosto che programmi di mentorship, workshop o laboratori che eh come dire hanno chiaramente delle dei target, delle finalità molto diverse però hanno un elemento diciamo mh comune, in comune, un filo conduttore che è proprio quello dell'intervento. dell'aziendalità per cui voi dovete immaginarvi le nostre aule composte sempre da trenta, quaranta persone di trenta, quaranta organizzazioni diverse che al di là del contenuto formativo no? Che il docente diciamo porta in aula hanno la possibilità di scambiare, di confrontarsi e in qualche modo di mh se vogliamo arricchire no? Eh il proprio bagaglio di competenze sia hard che soft uscendo dai propri contesti organizzativi e confrontandosi con con gli altri e l'obiettivo alla fine finale è appunto quello di creare dei leader inclusivi. Io vi volevo far vedere soltanto alcune attività che ehm a cui volentieri mh possiamo anche mh estendervi la la partecipazione, l'invito per partecipare. Abbiamo diciamo colto negli ultimi due anni la necessità di virtualizzare le nostre attività eh declinandoli in una serie di eh prodotti informativi, no? I valori di di Talks e i valori di Talks Academy. Sono dei momenti in cui noi appunto invitiamo degli esperti o delle aziende che abbiano delle case history di successo da raccontare a ehm fare una dissertazione di solito durano un'oretta questi interventi con un taglio meno formativo ma più divulgativo quindi l'obiettivo qui è cercare di creare sostanzialmente una cultura condivisa un scusatemi un linguaggio condiviso eh quando si parla di diversità e inclusione quindi una sorta di eh avvio di alfabetizzazione ai temi della diversity e inclusion eh pensato appunto per essere veramente trasversale ai contesti organizzativi scusatemi eh e i vari diciamo ehm anche livelli diciamo di di seniority. E ehm ecco volevo anche eh passare in rassegna con voi alcuni progetti di innovazione sociale perché ora mh vi dicevo che abbiamo l'ambizione di lavorare anche sul sistema paese no? E quindi come come lo facciamo? Cercando di eh appunto promuovere una serie di progetti che noi chiamiamo di innovazione sociale e che che speriamo insomma possano aiutare no? A cambiare il paese un po' più nel profondo. Ve li racconto, ve ne racconto qualcuno. Abbiamo ad esempio questo manifesto per l'occupazione femminile che è sostanzialmente un documento programmatico, una dichiarazione di intenti dal punto di vista giuridico eh attraverso la attraverso il quale abbiamo raccolto diciamo nove ehm come potremmo definirli target obiettivi su cui le organizzazioni eh si possono impegnare che crediamo possono aiutare a creare dei contesti organizzativi più inclusivi. ne cito giusto qualcuno il tema appunto della rimozione del pay gap a parità di ruolo, del pay gap di genere, l'incentivazione delle politiche di genitorialità condivisa e quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mh sostanzialmente chiesto alle aziende associate eh di eh sostanzialmente adottare questo documento ancora una volta nella persona degli amministratori delegati. Perché? Perché crediamo che sia importante lavorare ovviamente a tutti i livelli e crediamo che sia importante anche che dall'apice delle organizzazioni vengono dati dei messaggi chiave no? In questo senso. attualmente sono oltre centosessanta le aziende eh che hanno firmato questo documento ma la cosa bella ancora una volta a proposito di networking è che noi stiamo cercando di far vivere questo documento anche oltre il perimetro eh diciamo delle aziende associate a valore di per cui da un po' di anni a questa parte abbiamo eh diciamo un'interlocuzione mh abbastanza frequente con le associazioni di categoria per farlo adottare ad esempio dalle confindustri locali e tramite loro farlo promuovere diciamo all'interno delle proprie reti no? Sempre come attività di eh give back e di se vogliamo sensibilizzazione no? Rispetto a queste tematiche. Poi abbiamo sviluppato questo inclusion impact index che vi dicevo essere mh la modalità attraverso la quale noi supportiamo le organizzazioni a misurarsi sulle tematiche diciamo di diversity e inclusion. Anche qui attualmente lo strumento è eh diciamo tarato rispetto all'aspetto di genere ma si sta evolvendo in un'ottica diciamo tre sessanta. di che cosa si tratta? Si tratta di un auto assessment che le organizzazioni possono fare eh in maniera totalmente gratuita e ovviamente con una assoluta confidenzialità dei dati per avere cosa? Per avere un benchmark di quanto il proprio contesto organizzativo sia inclusivo eh diciamo rispetto ad alcuni assi no? Che sono la governance, la capacità di attrarre dei talenti, la capacità di sviluppare i talenti e da ultimo quella di trattenerli. e allora sostanzialmente andando a inserire su questo eh strumento circa sono una sessantina di indicatori no? Rispetto appunto alla popolazione organizzativa, distribuzione per genere all'interno dei ruoli si ottiene un benchmark no? Di eh come si posiziona il mio contesto organizzativo rispetto alla media dei eh compilanti e poi la cosa interessante è che si hanno anche dei suggerimenti di quali leve no? Si possano agire per migliorare laddove ci fosse necessità di appunto eh migliorare su alcuni di questi assi. e poi vi dicevo eh lavoriamo molto tanto anche proprio dal punto di vista della comunicazione no? Abbiamo avuto questa campagna eh sul pay gap per la rimozione del pay gap che eh sostanzialmente ha avuto il il patrocino di pubblicità progresso e quindi ci ha permesso eh di poter diciamo veicolare questo spot ehm gratuitamente perché insomma non avremmo diciamo eh la potenza di poter eh comprare degli spazi televisivi sulla Rai, su Sky eccetera ma grazie appunto alla pubblicità progresso riusciamo a sensibilizzare con queste campagne anche diciamo la eh la società la potremmo dire at large. Un altro altri progetti che vorrei raccontarvi sempre di innovazione sociale sono eh Inspiring Girls in the Boardroom e da ultimo Wunter. Inspiring Girls cos'è? È un'iniziativa attraverso la quale ormai da tre anni a questa parte portiamo nelle scuole medie, classi seconde e terze, delle role model femminili. role model femminili che provengono veramente da mh diciamo non solo da dal mondo delle organizzazioni no? Perché qui mh questo progetto è nato da eh una ricerca, una ricerca che sostanzialmente ha evidenziato come già dagli otto nove anni inizino no? A insinuarsi quelli che sono gli stereotipi di genere nella testa dei ragazzi e delle ragazze per cui sostanzialmente poi nel momento in cui si vanno a fare delle scelte di percorso di studio tendenzialmente no? Spesso le donne scelgono dei percorsi che hanno a che fare con i carichi di cura, questo va benissimo, l'importante è che lo si faccia in maniera consapevole e non perché si crede che magari una donna non possa essere ne dico una un ingegnere aerospaziale no? Per esempio. Allora noi cerchiamo di portare in queste classi seconde e terze dei modelli di riferimento, delle role model che in qualche modo possano raccontare anche delle storie diverse no? Possano in qualche modo arricchire eh ciò che le autorità cognitive primarie quindi i genitori e eh gli insegnanti possono trasmettere perché tante volte è anche un tema di esposizione no? A determinate eh tematiche che può aiutare a eh come dire livellare o minimizzare questi questi stereotipi che si possono avere. In the boardroom invece è un programma che lavora diciamo eh alle a diciamo alla verso gli apici dell'organizzazione ci siamo detti che mh tante troppe poche donne ancora arrivano a livelli apicali nelle organizzazioni beh anche nei board eh prima della legge Golfo Mosca no? Eh che erroneamente viene chiamata la legge delle quote rosa ma in realtà è la legge delle quote di genere no? Perché intende tutelare il genere meno rappresentato eh come dire da facendo una fotografia rispetto al fatto che sia quello femminile oggi ma non chiudendo al fatto che un domani potrebbe essere anche quello maschile no? Quindi l'importanza anche del linguaggio no? Perché spesso si parla di quote rosa e in maniera sminuente in realtà il legislatore non parla di quote rosa ma parla di quote di genere e con in the boardroom noi andiamo a lavorare sostanzialmente sulla formazione molto specializzata di donne e da quest'anno anche di uomini per entrare nei consigli di amministrazione delle società quotate. Mh da quest'anno vi dicevo l'abbiamo aperto anche eh agli uomini questo programma eh perché perché crediamo appunto che nella logica dell'alleanza di cui vi parlavo prima uomo donna sia importante che all'interno dei board anche noi come uomini ci facciamo in qualche modo eh diciamo attori eh di questo cambiamento sostanzialmente abbiamo formato oltre trecentottanta donne e molte di queste diciamo più della metà attualmente ricoprono eh appunto delle cariche all'interno dei consigli di amministrazione. E poi l'ultimo progetto di cui volevo parlarvi è Wonter che è una piattaforma eh alla quale potete assolutamente accedere vi invito insomma a navigarla se vi fa piacere che è rivolta in questo caso a un target diciamo un po' più grande no? Delle ragazze e dei ragazzi delle scuole scuole medie come era ma si rivolge ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori e ancora una volta vogliamo andare a fare un orientamento alle professioni. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo prima di tutto commissionato una ricerca per mappare quelle che sono le professioni a più alta occupabilità del futuro no? Ne abbiamo mappate circa un centinaio molte di queste vanno diciamo nella direzione delle discipline scientifiche, tecnologiche, economiche e matematiche, le famose STEM e allora abbiamo creato questa piattaforma che praticamente aiuta gli studenti e le studentesse cercando di parlare anche un linguaggio adatto no? A questo target quindi non chiedendo che voto ha in matematica, in fisica piuttosto che in italiano ma partendo dalle passioni, dalle propensioni e va a suggerire no? Partendo diciamo da questa mappatura quali tra le professioni del futuro potrebbero fare al caso di quella persona che ha appena finito di compilare lo strumento. ehm diciamo che è un modo anche no? Per fare un pochino di orientamento ripeto verso le discipline eh a maggiore occupabilità del futuro e poi le abbiamo voluto anche inserire un un aspetto di geolocalizzazione no? Per cui se io mi collego dalla provincia di Taranto e dal test viene fuori che potrei fare il pilota dei droni che realmente è una delle delle professioni ad alta occupabilità del futuro mi andrà a suggerire in quali istituti o in quali università se si tratta ovviamente di professioni che richiedono una laurea posso andarmi a formare nel mio territorio. sostanzialmente no? Ehm lo abbiamo fatto anche perché mh diciamo che crediamo che sia un indicatore interessante anche per eh le famiglie stesse. Vedo che c'è una domanda io approfitto subito anche per rifiatare un attimo da parte di Daniela Angeloni. Allora nella realtà non è una domanda però parlando ascoltandovi eh ci sarebbero tante cose da chiedervi. Innanzitutto era semplicemente io purtroppo fra poco vi devo lasciare che devo partecipare ad un'altra riunione quindi ci tenevo tantissimo a ringrazio tantissimo a ringraziare Maria e tutta l'organizzazione e soprattutto tu Stefano se posso permettermi di darti del tu eh perché la presentazione è stata chiarissima e mi si è aperto un mondo eh e ho tre figli e quindi ho preso appunti adoro eh sono molto molto interessata a queste iniziative che si rivolgono alla scuola perché penso che sia un un tema importante per per i nostri ragazzi e per il loro futuro e quindi ci tenevo veramente a ringraziarvi è stato veramente molto molto interessante e sono contenta di aver partecipato e quindi questo ci tenevo a dirlo prima di sganciarmi. Grazie Daniela. Allora grazie ancora Daniela e assolutamente sì per il tu ci mancherebbero in mutuo quanto risposto ma andava benissimo ehm ok benissimo quindi sostanzialmente ecco l'ultimo elemento di questo progetto abbiamo voluto indicare anche una diciamo una RAL no a parità rivederci Daniela a parità diciamo di seniority no per cui eh indicare no qual è il punto di atterraggio in funzione delle come dire delle professioni che si andranno ad occupare questo perché perché crediamo che appunto oltre agli studenti anche i genitori possano essere interessati e gli insegnanti stessi no dal sapere a fronte di ehm un investimento di un certo tipo dove andrò ad atterrare dove andrà a atterrare mio figlio quindi crediamo insomma che sia un modo per aiutare la domanda e l'offerta di lavoro a eh ad avvicinarsi. Vi dicevo che eh in in questa diciamo piattaforma l'aspetto delle discipline STEM è molto importante e io davvero mh insomma anche per non sforare nei tempi vorrei chiudere poi insomma se c'è qualche domanda volentieri eh accoglierla però vorrei ecco farvi vedere un video eh di uno spot che ha appena avuto diciamo anche qui il bollino pubblicità progresso e quindi speriamo che a breve potremo vederlo anche eh sui principali canali proprio sull'importanza dell'orientamento alle discipline STEM. Se mi permettete esco un secondo. Ecco qua. riuscite a vedere la schermata di YouTube? Sì. Sì. Ok. Magari attivo i sottotitoli in inglese che possono essere comodi. Eccoli qua. No non me li fa attivare in inglese. Va bene. Vediamo se così ce li fa attivare. sottotitoli. Sottotitoli. No. Va bene scusate non come non detto. Sottotitoli. Eccoli qua. Italiano traduzione automatica. Tocco fa ce l'avevamo fatta. Eccoli qua. Li abbiamo ripescati. Lo faccio partire. C'era una volta una bimba che voleva far scomparire tutti i rifiuti del mondo. Così ebbe un'idea. Costruire un robot ghiotto di spazzatura. Il giorno del suo sesto compleanno. Fine. Buonanatte. Incoraggiamo le bambini a studiare le materie STEM. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. E avranno gli strumenti per diventare protagonisti di una grande storia. Eccoci qua. Bene. Io volevo farvi vedere questo spot che lascia un po', no? Se vogliamo anche un po' di amaro in bocca, no? Perché dura talmente tanto poco e ci racconta di storie che si stanno iniziando a scrivere e che poi a un certo punto vengono interrotte. Quindi ecco l'auspicio che insomma io mi faccio e faccio insieme, immagino condiviso anche con voi, e che queste storie invece possano essere scritte sempre più e possano diciamo, come dire, essere completate e vedere molti più capitoli. Io vi ringrazio per l'attenzione. Scusate, in realtà io oggi sono stanchissimo perché ho fatto tutto il viaggio, Maria lo sa, ne abbiamo parlato di notte in treno, per diciamo essere in postazione a fare questa presentazione oggi. Quindi scusate se insomma ho detto qualche imprecisione, però ci tenevamo tantissimo a essere qua con voi questa mattina. Grazie, spero che insomma la collaborazione con voi possa intensificarsi anche nei prossimi mesi e se ci sono delle considerazioni molto volentieri insomma sono a disposizione. Maria siamo stati cinquantanove, penso. Siamo nei tempissimi, se qualcuno vuole intervenire se no minaccio di farlo io. Maria ho usato la mano, sono Raffaella. Scusa Raffaella, non la vedo. Allora intanto grazie, interessantissimo. Io ho seguito varie seminari di valore su LinkedIn o attraverso altri strumenti, quindi sono felicissima che c'è questa partnership con la nostra azienda che permette a tutti di crescere negli aspetti non soltanto della diversità e dell'inclusione ma in tanti punti che gestite e che toccate e che fanno parte di quella che è la crescita personale e professionale. La domanda è proprio in tal senso, quali sono i prossimi passaggi, quali sono le attività che possiamo fare insieme e a cui la popolazione, quindi io e i miei colleghi possiamo fare riferimento a voi come organizzazione di valore D. Grazie Raffaella per la domanda. Allora sicuramente mi sento di dire che la partecipazione ai talks è qualcosa che possiamo fare immediatamente nel senso che magari tramite Maria e tramite le colleghe cerchiamo di condividere i link per partecipare ad alcune attività e questo molto volentieri può essere un modo per tenerci in contatto. Poi insomma con Maria e con altre colleghe stiamo valutando anche che tipo di altre collaborazioni si possano attivare quindi insomma mi auguro che al di là di questo aspetto diciamo più legato a dei workshop si possa fare qualcosa in più anche perché lo dicevo prima, per noi una delle direttrici strategiche del prossimo triennio sarà quello di dialogare con delle realtà anche e far arrivare diciamo il valore della diversità e dell'inclusione soprattutto nel mezzogiorno dal quale io orgogliosamente provengo sono pugliese e quindi sento, sentiamo, sento ma sentiamo diciamo anche la responsabilità di voler portare queste tematiche su un territorio diciamo più esteso quindi mi auguro che ci siano delle occasioni veramente sempre più intense di collaborazione partiamo sicuramente da quei workshop ma siamo disponibili per costruire un percorso anche ad hoc per ISMET Non voglio fare spoiler ma stiamo lavorando insieme Se non ci sono altre domande farei io un paio di domande a Stefano tanto per metterlo in crisi dopo la nottata in treno chiedendogli di allargare un attimo l'orizzonte per fare qualche accenno in più rispetto agli obiettivi ESG e poi un'altra cosa legata anche a questo se avete pensato al manifesto per l'occupazione femminile come qualcosa che possa comunque convergere nel gender equality plan che ci toccano da vicino come realtà interessata alla ricerca scientifica è che credo che ne avevamo parlato ma ne parleremo in un prossimo webinar alla popolazione aziendale ma con te ne avevo accennato di cui già ISMET si è dotato e comunque contiamo di estendere anche a tutte le altre realtà di UPMC in Italia Ok grazie Maria Allora il tema della sostenibilità tra l'altro diciamo che è qualcosa che mi sta particolarmente a cuore perché negli ultimi tre anni soprattutto la tematica di ENAI è ritornata fortemente sotto l'egida diciamo della sostenibilità perché per circa sette anni era stata una tematica molto molto affrontata solo dal punto di vista solo per modo di dire delle risorse umane quando in realtà sappiamo bene che agli albori della DNAI comunque il contesto era proprio quello della corporate social responsibility ma negli ultimi anni un po' per le ragioni che raccontavamo prima l'importanza che riveste dal punto di vista delle istituzioni, dei consumatori, degli investitori e dei dipendenti diciamo è necessario lavorare anche dal punto di vista della diversità e dell'inclusione come leva di sostenibilità come dire è una materia molto indivenire nel senso che probabilmente la S è l'aspetto ancora meno declinato rispetto agli altri indicatori tant'è che noi stiamo proprio pensando di avviare un laboratorio come valore D sulla S della sostenibilità rispetto ai temi della diversity inclusion però ovviamente vabbè tutto parte dal goal 5 delle Nazioni Unite scusatemi dell'agenda 2030 rispetto all'occupazione di genere però ecco io mi sento di dire che è assolutamente una delle dei driver della sostenibilità delle organizzazioni io Maria ne abbiamo parlato con te sono reduce ho appena finito un master a Tor Vergata perché è una materia veramente indivenire e anche da come dire dal punto di vista di una persona che ci lavora da dieci anni su queste tematiche come dire è fondamentale aggiornarsi e ricondurre no? le attività che si fanno alla rendicontazione per cui Maria per rispondere in maniera sintetica alla tua domanda per me il link tra la diversità e l'inclusione e la sostenibilità è la rendicontazione cioè la capacità di rispetto ad alcune tematiche misurarsi e dare dei sostanzialmente numeri no? perché finché la raccontiamo diciamo da un punto di vista finché rimane una materia legata soltanto a un aspetto più umanistico sicuramente non stiamo andando nella direzione della sostenibilità e come ci andiamo attraverso la misurazione mi puoi ripetere invece la seconda domanda Maria me la sono persa? sì allora ti chiedevo una riflessione sul vostro progetto del manifesto per l'occupazione femminile che secondo me si collega qua diciamo voi l'avete affrontato in maniera generalista però secondo me si collega perfettamente al gender equality plan come richiesta dell'Unione Europea alle organizzazioni che fanno ricerca scientifica c'è un piano che si collega all'obiettivo 5 di Horizon Europe che è il programma dell'Unione Europea che eroga grants alle organizzazioni che fanno ricerca scientifica per cui è richiesto questo documento è come se voi avesse colto diciamo questo legame estendendolo non soltanto agli enti di ricerca ma in generale a tutte le aziende sì lì il legame grazie Maria per la ripetizione lì il legame secondo me lo si ritrova molto nella come dire nel punto di partenza da cui è stato scritto quel manifesto e nel punto di partenza da cui poi è stato declinato l'inclusion impact index che sono i GRI lo standard GRI che è uno dei due standard insieme al SAS più utilizzato per la rendicontazione allora in questo senso lavorare su un documento come il manifesto anche qui in maniera molto trasparente mi sento di condividere con voi che non è che tutte le aziende che firmano quel manifesto sono i champions rispetto a quei nove punti però si impegnano a monitorarsi quindi ancora una volta il tema della misurazione e a migliorarsi su quegli indicatori chiaramente ancora una volta ognuno col proprio punto di partenza e ognuno alla propria velocità per cui secondo me il legame è nell'aspetto della misurazione e il fatto che come dire noi partiamo sempre da standard internazionali nel come dire nel declinare poi anche questi progetti aiuta a renderli sinergici poi con i progetti delle organizzazioni nel vostro caso diciamo col mondo della sanità non so se ho risposto Maria alla tua domanda hai risposto perfettamente c'è qualcuno che vuole intervenire? io? grazie grazie mi avevo alzato la manina non la vedevo scusami ciao Stefano ciao mi fa piacere ritrovarti qua allora intanto grazie perché veramente lo trovo tutto molto molto interessante molto ampio non basta un tempo così breve ma sai che ti ho riconosciuto adesso? ecco abbi pazienza ma noi ci conosciamo da altre diciamo esatto una carambata una carambata una vera carambata infatti sono contentissima perché io conoscevo diciamo per altre vie Valoreddi e Stefano però non avevo mai sentito come dire non me l'avevi mai presentata professionalmente e devo dire sono rimasta piacevolmente stupita e mi appassiona molto il tema sia per motivi diciamo professionali ma anche per motivi personali e volevo non niente non è un intervento di di alta complessità però volevo solo dire fare lanciare così due due piccoli stimoli che magari possono essere interessanti però su aspetti che poi abbiamo parlato molto sia di aspetti strutturali diciamo così cioè di un livello economico ma anche di aspetti simbolici no? Io sono antropologa mi piace tanto tenere insieme queste due dimensioni cioè l'aspetto economico strutturale l'aspetto valoriale simbolico culturale secondo me Stefano è riuscito molto bene ecco sicuramente il lavoro di Valoreddi come dire integrare queste due dimensioni così importanti e sicuramente però in Italia mancano proprio due dei aspetti strutturali per permettere appunto alle donne di come dire non non cadere in quell'imbuto che ci facevi vedere no? Sicuramente l'aspetto del precariato e l'aspetto poi legislativo è per le donne madri io sono una mamma e quindi come dire faccio advocacy della mia condizione rende molto difficile no? questo percorso e cioè secondo me è poi un punto su cui voglio dare un po' a tutti così questa questa immagine e l'aspetto dei nidi di infanzia per esempio che in Italia noi siamo molto indietro su questo aspetto cioè sembra che la fascia 0-3 non sia un diritto quindi le madri non hanno il diritto di lasciare i bambini al nido cioè di avere un nido e di poter lasciare i bambini al nido quindi non si capisce come possano lavorare e quindi perché non cioè perché non i nidi aziendali cioè questa cosa ogni tanto si dice esisteva non un tempo però secondo me sarebbero veramente cioè potrebbe essere un punto molto pragmatico molto semplice che però potrebbe essere molto risolutivo della vita professionale della carriera di molte donne quindi io vorrei tanto i nidi aziendali e questo non so se è una cosa che vi potrebbe risulta interessante proprio per dire la lavazza a Torino ce li aveva aveva il nido aziendale quindi le aziende potrebbero dotarsi dei nidi come anche un punto poi che accresce il valore aziendale no Stefano se ti piace quest'idea insomma nel manifesto se piace a UPMC anche insomma non lo so io lo dico perché mi sembra il contesto giusto per dirlo visto e lo ripeto sempre davanti al caffè lo dico anche qui e l'altra cosa che volevo dire secondo me non so se manca o che cosa però che mi interessa molto il discorso del manifesto e mi terrò aggiornata però tu hai parlato molto di genitorialità condivisa che penso sia un tema molto molto importante e diciamo che rischia di essere anche trasgressivo in questi anni miei quindi bene però secondo me bisogna parlare anche di monogenitorialità perché sennò tante di noi tipo io restiamo un po' fuori da questo discorso perché a me piacerebbe tanto come dire parlare di genitorialità condivisa però nella società esistono anche le famiglie monogenitoriali e secondo me quando parliamo di inclusione insomma anche anche le famiglie monogenitoriali sono uno diciamo dei soggetti che secondo me devono iniziare a entrare un po' nell'immaginario e anche nell'organizzazione aziendale perché al momento proprio siamo esseri come dire avulsi basta solo queste due cosine e grazie mille grazie ancora veramente interessantissimo grazie grazie a te anche intanto sono molto contento di vederti da un po' che non ti vedevo e insomma condivido alcune cose che dicevi e volevo dare un po' una lettura rispetto al discorso dei nidi aziendali hai ragione Lavazza Vodafone ci sono tante organizzazioni grandi organizzazioni che hanno questo tema il punto è a mio avviso questo è il mio punto di vista che intanto c'è come dire un'istituzione l'organizzazione l'azienda in questo caso che sta supplendo a qualcosa che probabilmente dovrebbe essere gestita a livello istituzionale per cui questi contesti che poi appunto creano queste realtà lo fanno per supplirare una mancanza per cui se vuoi sapere quello che penso io io credo che sia una tematica non a caso anche il PNRR hanno destinato una serie di fondi tra cui avrete letto che c'è stata tutta una polemica perché alcune regioni non hanno utilizzato tutti i fondi per l'apertura degli asilinidi allora quello che volevo dire è semplicemente che è vero è importante però io mi auguro che diventi sempre più un tema di cui si occupino le istituzioni e non solo le organizzazioni perché lì lo fanno per supplire siccome poi come dire servono delle numeriche per rendere sostenibili le attività il punto qual è che appunto giustamente tu hai citato Lavazza io ti ho citato Vodafone che sono dei contesti enormi dal punto di vista anche diciamo dei numeri delle persone occupate quindi diciamo riescono anche veramente a rendere sostenibile questo tipo di attività una buona notizia in questo senso però Giulia è che da un po' di anni esistono anche delle piattaforme di servizi di welfare condivisi mi viene in mente jointly tanto per citare la prima che mi viene in mente e che cerca di aggregare le organizzazioni che magari dimensionalmente non possono fare determinate attività perché diciamo in una logica di business plan non riescono a starci dentro a mettersi in rete e a farlo con delle altre organizzazioni per cui se ci sono più realtà interessate a unito aziendale magari lo possono fare insieme per cui questo può essere un altro un altro elemento da portare alla discussione Giulia invece rispetto al tema della monogenitorialità assolutamente ragione anzi guarda scusa se ti ho passato questo messaggio che in realtà noi parliamo di genitorialità condivisa ne parlavo solo come dire in relazione al fatto che tipicamente le organizzazioni si occupino del tema della genitorialità solo col focus mamma invece crediamo che come dire laddove è presente anche l'altra persona si debba prendere le sue responsabilità in qualche modo debba essere coinvolto allo stesso modo sostanzialmente però ecco Giulia non era diminuente non era sminuente nel senso delle famiglie monogenitoriali assolutamente no figurati era perché magari è perché magari è un tema che è veramente ancora è insomma poco presente quindi grazie per lo spunto lo facevo lo facevo presente hai fatto bene grazie grazie adesso se non ci sono altre domande inviterei tutti a attivare il video così facciamo una foto dei partecipanti perché questi scherminari non sono proprio fotogenicissimi ciao a tutte ciao a tutti anche gli altri che non avevo ancora visto Marco Laura dimmi tu quando è andata fammi un cenno ok e poi vi invito a compilare il questionario di gradimento che trovate in chat fatelo adesso se no poi non lo fate più dopodiché saluto tutti se non ci sono altre mani alzate o altri interventi saluto Stefano grazie grazie a tutti grazie a tutti